... Gestiva chat private su Telegram instigando gli utenti a compie reati di terrorismo, minorenne residenti a regione individuato dalle forze dell'ordine. Terrorismo frutto di una cattiva gestione dell'immigrazione, alcune delle parole del direttore di Telequattro Baciali sul giovane che inneggiava l'ISIS via web in Friuli Venezia Giulia. Rivedremo il regolamento considerando che gli appartamenti Ater sono dei cittadini, così il candidato presidente grillino fra Leoni e Morgera. Spunta il nome del triestino Ettore Rosato, vicepresidente della Camera per la segreteria nazionale del Partito Democratico e arriva la critica dell'outsider Francesco Russo. Grande concerto per celebrare la ristrutturazione dell'organo del santuario di Montegrisa, contributo della fondazione CR Trieste. A una settimana dal derby contro Udine, la squadra di Dalmasson domani se la vedrà con piacenza in trasferta nella terz'ultima prova della stagione regolare. Primavera e alimenti di stagione, oggi con Chef Franco assaggiamo un risotto facile da preparare con tutti i sapori di questo periodo dell'anno. Te spettatori di Tele4, buonasera, ben ritrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale che si apre con questa notizia che avete sentito anche in apertura di un minorenne italiano di origine algerina che è stato individuato dalle forze dell'ordine congiunte fra quelle di Trieste e quelle di Udine in quanto uno dei principali indiziati nella gestione di alcune chat private è gruppi chiusi di messaggistica utilizzati per l'istigazione ad atti di terrorismo contro l'umanità. Sentiamo. Salve, come faccio a far passare una cintura esplosiva attraverso le porte automatiche? Questa è soltanto una delle frasi scoperte dalla Polizia di Stato all'interno di chat private e gruppi chiusi di propaganda a favore dell'ISIS tramite l'applicazione di messaggistica istantanea Telegram sul canale denominato Chi la fa News Italia. Lì agenti delle forze dell'ordine attraverso una serrata e complessa attività tecnico-investigativa avviata nel dicembre del 2016 dai militari di Trieste e Udine In stretto raccordo operativo con i poliziotti delle Digos del capoluogo Giuliano e di Udine coordinati dalla procura per i minori di Trieste hanno individuato la presenza di un italiano minorenne di origine algerina all'interno di una rete di cyberterrorismo. Secondo gli investigatori il minorenne sarebbe stato pronto a realizzare un dispositivo rudimentale per compiere un'azione nella scuola da lui frequentata. Grazie ai servizi di pedinamento in collaborazione con le Digos territoriali è stato sottoposto a controllo lo zaino del ragazzo dove sono stati trovati diversi documenti manoscritti in lingua araba ingente e materiale informatico e una bandiera dell'ISIS realizzata manualmente dallo stesso giovane. Il ragazzo instigava altri utenti a commettere deliti di terrorismo e contro l'umanità. Il puntuale intervento della procura dei minori e della polizia di Stato ha consentito di superare la mera fase accertativa della responsabilità penale del minore e soprattutto, grazie agli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento, l'avvio di un delicato percorso di recupero e deradicalizzazione reso possibile dallo scollegamento del giovane dalla rete del cosiddetto cyber-jihad. I poliziotti hanno constatato come all'interno del canale, risultato essere tra i principali veicoli della narrativa del califato, venivano pubblicati messaggi di propaganda dello Stato islamico, originariamente prodotti in lingua araba dai diversi official media del califato e tradotti in lingua italiana, rivolti in particolare ai cosiddetti lupi solitari presenti sul territorio nazionale. Per tale motivo all'indagato è stato contestato il reato previsto dall'articolo 414 per aver compiuto attività di proselitismo a favore dell'ISIS, mediante diffusione e traduzione di contenuti propagandistici sui predetti gruppi, aggravata dal fatto che veniva compiuta attraverso strumenti informatici e telematici. Ed era un leader dei gruppi Telegram e delle chat che personalmente amministrava il giovane individuato dalle forze dell'ordine e reo di divulgare messaggi di istigazione al terrorismo attraverso i canali web. Questo ragazzo ha dimostrato molta determinazione ma al contempo ha anche avviato un percorso di collaborazione con le forze dell'ordine. Sentiamo. Non è data sapere l'area di residenza del minorenne denunciato per la diffusione di messaggi di propaganda all'ISIS attraverso Telegram. Le forze dell'ordine, per evitare che si possa risalire all'identità del giovane in quanto ancora non maggiorenne, si sono limitate a indicare che le attività del ragazzo si sono sviluppate nelle province di Udine e Trieste, compresa la presunta intenzione di mettere a punto un ordigno rudimentale da utilizzare a scopo terroristico nella scuola da lui frequentata. Secondo quanto emerge dagli investigatori sul profilo del ragazzo, si è delineata in lui una forte determinazione a svolgere un ruolo da leader ed appunto di riferimento per tutti coloro che intendevano partecipare attivamente alla causa jihadista. A tal fine aveva creato un canale su Telegram dal titolo In arabo, stato islamico, frontiera d'Europa, con circa 60 membri affidando ai componenti del gruppo la traduzione in lingua spagnola, francese e italiana delle notizie da lui reperite per diffonderle nel modo più capillare possibile. La condotta è risultata aggravata in quanto commessa attraverso strumenti informatici e telematici. Andando a fondo con le indagini poi, La dirigente della polizia postale del compartimento di Trieste ha affermato che il ragazzo è seguito da un team di psicologi con cui sta collaborando. Proviene da una famiglia tranquilla che vive di onesto lavoro, che nulla si era accorta riguardo l'indirizzo che stava prendendo il giovane. Quando la famiglia si è trovata, la polizia che andava a bussare alla porta, c'è stato un momento di sgomento, ha raccontato la dirigente della polizia postale. Il ragazzo all'inizio è stato molto tranquillo, si è dotato di una capacità di autocontrollo non indifferente, superiore anche alla sua età, ma poi ha capito che la sua ideologia e tutto quello che aveva fatto poteva ripercuortersi proprio sulla sua famiglia. Il giovane, per il grande amore che ha per i suoi cari, ha cercato prima di negare, poi si è reso collaborativo. E proprio per questo aspetto gli agenti sono convinti di una deradicalizzazione del giovane. Sentiamo ora su questo argomento le parole e il commento del direttore di Telequattro, Luigi Bacialli. Si sente spesso dire come mai in Italia non ci sono stati ancora attentati gravi come quelli compiuti in Francia, in Inghilterra, in Germania. Come mai? La spiegazione è proprio in questa storia del quindicenne che era collegato con le France più estreme dell'Isis, che stava preparando forse un ordigno rudimentale da far scoppiare nella scuola che sta frequentando in Italia. Un ragazzo italiano di origine algerina, figlio di una famiglia perfettamente integrata. Questo è l'identikit dei terroristi che hanno commesso attentati spaventosi. Ricordo quello delle Ramblas a Barcellona, dove tra l'altro ci sono state vittime anche del Veneto. Hanno compiuto attentati questi ragazzi di seconda, terza generazione, figli di queste famiglie apparentemente integrate, o forse integrate, ma che hanno allevato dei ragazzi nelle banlieue di Parigi oppure nelle periferie delle città tedesche che sono cresciuti con una rabbia che poi sfogano assecondando i voleri del califato. Sono militari dell'Isis in pratica, in fieri, in pectora, vogliono diventarlo se non lo sono ancora e si vogliono vendicare di un occidente che detestano perché li ha lasciati indietro, perché li è margina secondo loro, perché non li asseconda. Ecco, questo è il grosso rischio. Allevare altri piccoli terroristi come quello che è stato fortunatamente fermato a Trieste e quando si dice che bisogna limitare i flussi migratori non ci si può sentir dire che si è xenofobi e razzisti. È una questione di una gravità sociale e culturale enorme. Il rischio è di formare anche qui delle favelas, delle zone, delle aree, anche non soltanto periferiche nelle nostre città e nei nostri paesi, che fanno crescere questi ragazzi che vogliono vendicarsi dell'Occidente che non li ha sufficientemente esaudito i loro desideri e che li ha, dal loro punto di vista, schiacciati. Quindi questo bisogna evitare, altrimenti si formeranno questi gruppi come già è successo in altri paesi e non vengono da fuori, non sono dei foreign fighters, sono qui dentro, sono nelle nostre città ed è questo il pericolo che in ogni modo bisogna evitare se vogliamo che questi piccoli terroristi non crescano e non si diffondano sul territorio. Cambiamo argomento in relazione ai tre minori che si sono allontanati da casa nella giornata di ieri e segnalati proprio ieri, ovvero una ragazza italiana e due fratelli marocchini. I carabinieri comunicano che questi giovani sono stati localizzati a Barcellona in collaborazione con la polizia catalana e sotto il coordinamento del consolato italiano. Gli stessi ragazzi, una volta che si sono visti rintracciati dalla polizia spagnola, hanno contattato le famiglie per tranquillizzarle sulle proprie condizioni di salute. I genitori sono in viaggio poi alla Spagna per andare a riprenderli. Siamo adesso alla politica con la puntata di ieri di Ring. Ospite in onda il candidato presidente a Friuli Venezia Giulia del Movimento 5 Stelle, Alessandro Fraleoni-Morgera, che ha spiegato il proprio programma per quanto riguarda, nello specifico, la gestione degli appartamenti Ater. Innanzitutto dobbiamo uniformare il regolamento che assegna i punteggi per le case Ater. Ci risulta per esempio che a Trieste la residenza sia premiata con meno punti che a Udine, per esempio. E poi c'è bisogno di recuperare tutto il patrimonio Ater, perché abbiamo una quota consistente, da noi risulta intorno al 30% delle case Ater che in realtà sono non utilizzabili perché hanno bisogno di manutenzione o perché hanno problemi di altra natura. E tra l'altro questo in realtà per noi è un'occasione in realtà per rilanciare il settore edilizio, perché sappiamo benissimo che è uno dei settori industriali più in crisi, non solo a livello nazionale ma anche regionale. Chi paga però? Questi lavori sono tanti? Questi lavori sono tanti sicuramente. Dall'altra parte io credo che la politica quando vuole trova i soldi per qualsiasi cosa e quindi non dispero che si possano trovare i soldi anche per riqualificare a livello antisismico ed energetico anche il patrimonio edilizio dell'acqua. Allora questo la ricordo benissimo, anche 5 anni fa era stata proposta da altri candidati, che ovviamente non c'entra, però risistemare i tanti appartamenti garantisce comunque un volano, questo senz'altro. C'era un altro SMS che faceva riferimento alle case Ater, quindi quando Federica dice prima agli italiani, lei cosa pensa? Io penso che le case Ater sono pagate con le tasse, quindi chi paga le tasse ha diritto ad entrare in graduatoria. Poi se vogliamo parlare di come gestire l'assegnazione dei punteggi per la graduatoria, intavoliamo un discorso serio, non demagogico, ma serio e parliamo di anni di residenza, parliamo di ISEE, quindi parliamo di reddito delle persone, però a mio parere dire prima agli italiani è un discorso estremamente semplicistico, troppo semplicistico. Andi adesso parliamo sempre di politica, però di centrosinistra, la guida del Partito Democratico, dopo Renzi e Martina, potrebbe essere chiamato il debutato Tristino Ettore Rosato dell'ipotesi, si è parlato nel caminetto convocato da Renzi, al quale ha partecipato anche l'ex capogruppo DEM, oggi vicepresidente della Camera. I fedelissimi dell'ex premier spingono per un candidato renziano da contrapporre all'attuale segretario reggente, Maurizio Martina, all'assemblea nazionale del partito, convocata il 21 di aprile. Tra i nomi più gettonati, oltre a quello di Lorenzo Guerini, c'è proprio quello del Tristino Ettore Rosato, padre della nuova legge elettorale. Tra i possibili candidati alla segreteria, si era parlato anche dell'ex governatrice De Friuli Venezia Giulia Deborah Seracchiani, neoeletta, deputata su questo argomento. Poi è arrivato il commento anche di Francesco Russo, che ha detto che Rosato, segretario PD, significa non aver capito cosa ci hanno detto gli elettori. Questo ha detto proprio Francesco Russo, dopo aver appreso, che il nome di Ettore Rosato è uno fra i candidati proprio per la segreteria nazionale del partito democratico. Adesso andiamo invece a fare il punto in casa, open sinistra FWG, che oggi ha presentato i propri candidati sul territorio di Ponziana. Dobbiamo tornare in strada, dobbiamo ascoltare di più quello che i cittadini chiedono e continuare a tradurre sempre di più queste indicazioni in politiche concrete a favore dei cittadini. Hanno scelto la Casa del Popolo di Via di Ponziana per presentare la lista di open sinistra FWG alle elezioni regionali del 29 aprile. Perché, afferma il capolista e consigliere regionale uscente Giulio Lauri, sinistra vuol dire fare politiche concrete a favore delle persone e non limitarsi a testimoniare dei valori. E open sinistra FWG rappresenta una proposta nuova che si ispira al territorio. È un'esperienza civica che mette in rete molte esperienze locali che in tutta la regione fanno buone politiche a livello territoriale e vogliono in qualche modo portare questa esperienza di unità del centro-sinistra e di forte radicamento a sinistra dentro il Consiglio regionale in una situazione in cui invece a livello nazionale la sinistra si divide. Questo è il grande dato importante. I nostri candidati, sottolinea Lauri, provengono da tanti ambiti della società e vogliono portare la loro esperienza anche dentro la competizione politica perché pensano che appunto delle cose molto importanti in questi cinque anni in FWG il centro-sinistra le ha fatte. Alcune cose, diciamo, innovative le abbiamo fatte per primi in Italia ad esempio la legge sul sostegno al reddito e queste esperienze vanno difese, vanno ulteriormente implementate vanno attuate fino in fondo e non si può e non si deve tornare indietro come fece il centro-destra quando vinse le elezioni la tercorsa volta e cancellò tutte le riforme del centro-sinistra. Guardare a quanto fatto nella legislatura regionale che si sta chiudendo, conclude Lauri non significa però seguire pedissequamente la medesima strada. Una continuità nel merito è una discontinuità molto forte nel metodo abbiamo commesso anche degli errori gli errori sono stati quelli di correre troppo di stare poco in quartieri popolari come questo. Una notizia ora prima della nostra pausa pubblicitaria a nome della SIOT mi scuso con la popolazione di Trieste che a partire da ieri sera ha subito il disagio di sentire forti odori riconducibili alle operazioni di straordinare manutenzione effettuata al terminal marino lo scrive in una nota il presidente della SIOT Alessio Lilli precisando che il rilascio dei forti odori è dovuto al contatto di mercaptani con l'aria sostanze odorose che precise la società non sono nocive per la salute e per l'ambiente e che emettono un odore sgradevole anche a bassissime concentrazioni. Noi ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e ci rivediamo tra poco. Ben ritrovati con il nostro telegiornale al via dal 16 aprile le iscrizioni ai centri estivi comunali e ai ricrestate aumentati i posti per i bambini dell'asilo nido tariffe invariate rispetto all'anno scorso. Con largo anticipo rispetto allo scorso anno dal 16 al 28 aprile prenderanno il via le iscrizioni ai centri estivi del comune per i bambini di nidi materne ed elementari e ai ricrestate 2018. Come ha sottolineato l'assessore comunale all'educazione Angela Brandi è stato creato un appalto dedicato alla prima infanzia aumentando la disponibilità di posti 70 in più per i bambini dei nidi. Il servizio dei centri estivi sarà attivo dal lunedì al venerdì in turni bisettimanali di 10 giorni ciascuno in diverse sedi. Inalterate restano le tariffe fino a un massimo di 175 euro in base all'ISEE che dovranno essere pagate entro 7 giorni dalla data di ammissione. Questo per evitare il fenomeno dell'iscrizione di bambini che poi non frequentano sottraendo posti agli altri. Previsti sconti per chi ha più di un figlio. Le iscrizioni potranno essere effettuate online al sito municipale della rete civica oppure a triestescuolaonline.it. Sarà attivo anche uno sportello dedicato in via dei Capitelli 8. Le graduatorie provvisorie usciranno il 9 maggio, quelle definitive il 23. Insieme ai centri estivi dal 16 al 28 aprile ci si potrà iscrivere anche e ricrestate la versione estiva dei ricreatori dedicata ai bambini e ragazzi della scuola elementare media. Vediamo adesso alcune immagini che sono state girate proprio poco fa riguardo a un incidente che è capitato a Fernetti con un camion che si è ribaltato creando inevitabilmente disagi alla circolazione viaria come potete vedere da questi scatti, da questo video, un incidente stradale con questo camion ribaltato nella zona di Fernetti. Sono arrivati prontamente i soccorsi per cercare di rendere più fluida la viabilità stradale e verificare che non ci siano stati gravi ripercussioni anche dal punto di vista delle lesioni di persone. Con questo noi proseguiamo adesso invece andando a Montegrisa perché torna a Nuova Vita l'organo di Montegrisa restaurato grazie alla Fondazione Trieste torna a Nuova Vita e torna a suonare in un grande concerto che si è svolto questo pomeriggio organizzato proprio per celebrarne il suo recupero. Un concerto per coro e orchestra consolista per festeggiare il ritorno all'attività del principale organo del Santuario Mariano di Montegrisa appena ristrutturato. Un'iniziativa voluta dal Rettore del Santuario Padre Luigi Moro che ha visto la partecipazione del coro Alietum di Isola d'Istria dell'Orchestra da Camera agli Archi dei Patriarchi di Cormons e dell'organista Alessandra Esposito. I lavori di recupero del prezioso strumento realizzato 35 anni fa dalla Mascioni tra le più antiche fabbriche del settore d'Europa sono stati portati a termine grazie a un contributo della Fondazione CR Trieste di oltre 36 mila euro e hanno previsto lo smontaggio di tutte le canne, la loro riparazione, la pulizia totale dell'impianto e la riaccordatura. Dopo aver dato ripetuti segni di malfunzionamento nel marzo 2016 l'organo fu sottoposto a un controllo da parte della stessa Mascioni che da 40 anni si occupa anche di restauro e ricostruzione. L'esito della perizia rivelò che in più parti erano in cattive condizioni molto usurate e mal aggiustate nel corso degli anni da parte di altre ditte che con il loro intervento avevano quasi reso inutilizzabile lo strumento. Ora finalmente il recupero dell'organo celebrato con un importante momento musicale. Restyling per il campo di calcio di Via Soncini e dopo importanti lavori di manutenzione questa mattina l'inaugurazione dell'impianto. Finalmente il campo rientra nella sua attività primaria che è quella di far giocare soprattutto i bambini. Rappresenta il fiore all'occhiello dei vertici dell'associazione sportiva di lettantistica Nuovo Soncini Calcio. Dopo un intervento radicale di ristrutturazione è stato infatti inaugurato stamane il campo di calcio a 7 situato nell'omonima Via dei Soncini al Civico 40. L'impianto che sorge su un terreno di proprietà della fondazione Cacciaburlo da anni necessitava di interventi manutentivi per quindi essere restituito alla fruibilità di tanti aspiranti campioni o semplicemente alla ricerca di momenti di svago nello sport più amato dagli italiani. Il coronamento di tanti mesi di lavoro, di tanti mesi di fatiche anche di brutto tempo che siamo riusciti a superare ed è anche una giornata di ringraziamenti però perché se tutto questo è stato possibile è stato merito di persone che si sono dedicate a noi come i nostri vicepresidenti Alessio Favretto come il nostro Luigi Lendano i nostri custodi capitanati da Massimo Ume la fondazione Cacciaburlo che ci ospita la fondazione Morpurgo e alcune aziende importanti per Trieste come la Dussman e Giulia. Oltre a rappresentare un nome storico nel calcio cittadino perché fungeva da vivaio per la Triestina sottolinea la sessore Rossi l'attività che svolge il nuovo Soncini è meritoria di grande considerazione. Persone che a livello di volontariato si dedicano ai ragazzini quindi è meritorio quello che stanno facendo per cui anche la mia presenza è una presenza di considerazione a livello istituzionale. È un campo che ha avuto una sua storia e quindi è anche giusto che continui in quel senso portando avanti tanti ragazzini che appunto avranno ore di gioco e di divertimento. Questo impianto tornerà ad essere un punto di riferimento per un'importante zona della città sottolinea Giuseppe Morea ma avrà anche un importante ruolo sociale. I bambini spesso sono un po' isolati un po' lasciati a loro stessi nelle case e fuori dalle case invece con queste iniziative riusciamo a garantirgli di fare amicizia in integrazione e anche sport che è anche didattica. E restiamo proprio sullo sport a una settimana di distanza dal derby con Udine all'Almarena la squadra di Dalmasson se la dovrà vedere domani con la Sigeco Piacenza in trasferta nella terz'ultima gara della regular season. All'andata fu un regalo sotto l'albero per i tifosi all'antivigilia di Natale al ritorno diventa una gara quanto mai importante alla terz'ultima della stagione regolare per consolidare il primato in testa al campionato. Il 23 dicembre finì 92 a 60 Piacenza rimase in partita solo per qualche minuto per poi venire travolta dalle prestazioni di Green Bowers Giannelize e Fernandez tutto in doppia cifra. Attualmente dodicesima in classifica nel girone est 11 vittorie e 15 sconfitte rispetto alla gara d'andata la formazione di Riva ha perso Luca Fontecchio finito a Iesi ma ha acquistato il playmaker Marco Passera tre gli uomini di riferimento della Sigeco la coppia americana a Guyton Orridge e l'italiano Reati una garanzia a questi livelli 10 punti e 4 rimbalzi a partita per quel che riguarda gli stranieri la guardia Scuti Guyton è il miglior realizzatore della Sigeco con 16 punti a incontro l'ala forte Orridge invece è un atleta di 2,06 metri che assicura fisicità nei pressi del ferro ma può anche tirare da fuori con discreti risultati 14 punti oltre 7 rimbalzi a gara da segnalare nel roster altri uomini di qualità come il tiratore Formenti il regista Sanguinetti e il lungo Infante per Trieste una prova importante per consolidare anche quel approccio alle trasferte non sempre impeccabile che risulterà fondamentale in chiave playoff per quanto riguarda invece la Triestina è importantissimo appuntamento domani allo stadio Rocco contro il Padova alle 14.30 contro la capolista del Girone proprio della Triestina per quanto riguarda domani essendo la giornata del tifoso alla Bardatto non saranno validi gli abbonamenti e quindi tutti dovranno acquistare il biglietto per vedere la partita ci saranno diverse iniziative innanzitutto con la carovana che è partita già oggi impegnerà tutti i tifosi e che continuerà nella giornata di domani poi importanti modifiche alla viabilità perché proprio nella giornata di domenica le disposizioni in materia di viabilità per i tifosi saranno piuttosto stringetti nelle zone limitrofe all'impianto dello stadio Rocco dunque l'invito anche da parte della società è quello di recarsi con un buon anticipo allo stadio anche per una questione di posteggio infine poi c'è la questione della partita della gara una gara importante per l'Unione che deve riscattare le ultime uscite che non hanno sorriso in quanto risultati ma soprattutto servirebbero per uno spunto di morale che aiuterebbe l'Unione a portarsi ancora di più a conferma della zona per i playoff chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale con il menu di Chef Franco archiviate dunque le ricette pasquali passiamo adesso invece a quelle che riguardano la primavera quindi andando a seguire il prossimo piatto quello di questo sabato io saluto tutti e auguro una buona serata ciao e ben ritrovati a tutti oggi cucineremo con i prodotti della primavera e per iniziare un risotto primavera gli ingredienti per la preparazione di questo piatto sono riso carciofi zucchine carote asparagi piselli poi per mantecare burro grana grattugiato olio pepe e sale il brodo vegetale è già che bolle pronto noi iniziamo a cucinare le verdure mentre le carote si cucinano noi iniziamo la tostatura del riso olio e mettiamo il riso il riso è ben tostato adesso iniziamo a bagnarlo inseriamo le zucchine e adesso metteremo a tostare i piselli aggiungiamo un po' di olio e mettiamo i carciofi per fare un buon risotto è molto importante la tostatura con un grasso e la mantecatura e girarlo continuamente perché perché rilascia piano piano l'amido che gli dà quella cremetta quella cremosità e diventa un risotto ottimo adesso noi andiamo alla mantecatura del riso inseriremo prima di tutto il burro poi aggiungiamo il formaggio grattugiato mettiamo un filino di olio per lucidarlo e poi impiattiamo il risotto primavera è pronto buon appetito grazie a tutti Autore dei sovrapposti